Ok, ciao a tutti, oggi vi presento oggi ROM, ovvero tutti i tools portano a Roma. Ora, innanzitutto mi chiamo Emanuele Stoppa, faccio development da 12 anni più o meno e negli ultimi dieci anni mi sono specializzato nel web, quindi JavaScript, frontend e quant'altro. E negli ultimi mesi lavoro a Roma, dove faccio, lavoro proprio su Roma a tempo pieno usando Rust. Anche TypeScript, JavaScript ogni tanto, ma diciamo lavoro a tempo pieno utilizzando Rust, di cui parlerò successivamente. Ok, non so se conoscete la storia di ROM, ma inizialmente ROM era stato creato da Sebastian, creatore di Babel, Yarna e anche ROM, ed è stato creato in TypeScript. A un certo punto abbiamo detto no, forse dobbiamo rivedere le cose. E qui adesso vi parlo di come, diciamo, siamo rinati. Allora, innanzitutto cos'è? Perché si chiama ROM? Beh, innanzitutto si chiama ROM perché innanzitutto c'è il famoso detto tutte le strade portano a Roma e Roma non è stata costruita in un solo giorno. In inglese ci sono questi modi di dire e diciamo ROM era il nome perfetto perché innanzitutto vogliamo creare tutti gli strumenti che ci servono per creare software, quindi del testing, pre-tier, linting, tutte queste cose qua, in un solo tool. E perché non è stato costruito in un solo giorno? Quando Sebastian l'ha fatto open source, aveva speso più o meno due anni e mezzo nel portare quello che aveva creato e non aveva tutti gli strumenti a quel tempo. Quindi ci vuole tempo. Quindi la nostra missione è creare il toolchain per il web, quindi usare un solo strumento per poter, diciamo, gestire vita e morte in miracoli, quindi fino al deployment del nostro codice sorgente, quindi in produzione. Quindi vogliamo avere tutti gli strumenti in un solo eseguibile, quindi vi installate ROM e da lì testate, fare il formatting, bundling, anche testi nel codice, insomma generazione di documentazione e chi ne ha più ne metta. Vogliamo focalizzarsi anche sull'esperienza degli IDIS e vi spiegherò perché gli IDIS sono importanti e poi soprattutto una cosa che non vogliamo mettere in secondo piano è l'esperienza utente, quindi noi sviluppatori abbiamo bisogno di avere un'esperienza decente. Quindi, toolchain per il web, insomma, ci sono un sacco di strumenti e quindi noi miriamo a essere tutti questi strumenti, quindi formatter, linter, gestori di dipendenze, quindi anche potenzialmente rimpiazzare NPM, minificatori, insomma, chi ne ha più ne metta. Anche una cosa tipo il cross-linter, una cosa che ancora non esiste ma che secondo noi possiamo realizzare, tipo fare un linting tra CSS, HTML o JSX. Insomma, è un proof on concept che ho in mente. Tutti gli strumenti in un solo eseguibile. Allora, perché? Quante volte avete dovuto creare un'applicazione creata a capo o con Vue o Svelte e avete, diciamo, accontentato il cliente e quindi gestire le cose in modo diverso e quindi dover uscire dalle opzioni di default e dover, diciamo, iniziare a fare, vedere un po' come web, come funziona, fare in modo che funzioni con Slinth, con Prettier, poi c'è il minificatore che ogni tanto può in produzione e non fa quello che vuole, quindi bisogna gestirlo. Insomma, cosa succede? Che alla fine si fa un part-time in cui si diventa gli esperti di tutti questi tool e quindi ci tira dietro un po' di tempo, perché poi, come giustifichi queste cose al datore di lavoro? Insomma, loro non interessano molto queste cose. E seconda cosa, tutti questi tool creano un bot di overhead. Insomma, su un progetto piccolino, ok, non c'è molto overhead, ma quando poi il progetto inizia a crescere, con, diciamo, a livello enterprise, le cose nelle CI, ad esempio, iniziano a vedersi, che ci mette abbastanza tempo, tipo fare il formatting, webpack, non ne parliamo, insomma, ci hanno passato e so quali sono i dolori. Quindi noi vogliamo prendere praticamente il ROM, analizzare un singolo file e fare tutto quello che vogliamo, quindi formattare, fare linting, diciamo, tutto con una sola parsata di un singolo file e fare tutto. Mentre con diversi tool, pretty, ariest, lint, webpack, ogni singolo tool deve fare il parsing e ognuno ha, tipo, il loro parsing, babble o altre cose. Insomma, crea molto, molto overhead. Focalizzarsi sugli ID. Non so se lo sapete, ma il parse che c'è sotto gli ID è forse uno dei parse più, diciamo, forti che ci siano in giro. Perché? Quante volte avete iniziato a scrivere codice che è sostanzialmente rotto perché non avete finito di scriverlo ed è in grado di darvi un autocomplitto. Questo vuol dire che questo parsing è in grado di, in qualche modo, ignorare o recuperarsi dagli errori e è in grado anche di, quindi, di analizzare il codice che state scrivendo e è in grado di darvi un autocomplitto. Ci sono praticamente, sono dei maestri del file parsing dei file. Ed è lì che noi vogliamo puntare. E l'esperienza utente. Insomma, vogliamo anche rivisitare gli errori. Quante volte c'è stato, c'è un errore durante la CI e non capite cosa è successo? Quindi, che ne so, date in produzione, cercate di prendere il file minificato o, diciamo, analizzarlo, capire, insomma. Richiede tempo. Quindi noi vogliamo praticamente reinventare degli errori e ogni volta che abbiamo un errore, uno, vogliamo darvi del contesto. Vogliamo dirvi che cosa è successo, perché è successo e come potete fissare il problema. Questo è un esempio di come vogliamo creare praticamente questi diagnostics, si chiamano. Quindi, errori, diciamo, molto, molto belli, diciamo, a vedersi. Come potete vedere, abbiamo il nome del file, abbiamo la categoria dell'errore, in questo caso abbiamo il linting, perché c'è stato un errore, vi facciamo vedere anche dove l'errore è avvenuto e vi diciamo anche perché secondo noi è un errore, in questo caso è un discorso di accessibilità e quindi lo sviluppatore quando vede questo errore dice, ah, ok, ha senso. Per avere tutto ciò bisogna partire dalle basi e le basi è praticamente parsare i file. Una volta che si crea un albero sintattico del codice, da lì, se l'albero sintattico è buono e ha una qualità di alto livello, tutti i tool che consumano questa qualità di alto livello possono raggiungere la stessa qualità di alto livello. Tant'è che adesso siamo in gioco in questi alberi sintattici, ok? Non so se lo sapete, ma esistono due tipi di alberi sintattici, astratto e concreto, quindi AST e CST. Entrambi servono per rappresentare il codice, ma lo rappresentano in una maniera leggermente diversa. Gli ID di solito utilizzano il CST, perché? Perché i CST solitamente rappresentano tutte le informazioni all'interno del codice. Allora, questo è un esempio di AST, di come ROM lo rappresentava, prima che rinascesse. Come potete vedere, è un oggetto con vari nodi, in ogni nodo abbiamo la posizione assoluta di quel nodo all'interno del codice. A sinistra è il codice che viene rappresentato, molto piccolo, però come vedete l'albero è abbastanza grande, sono già tipo quattro nodi. Mentre questo è un esempio di CST, di ROM, di come lo rappresentiamo. In questo esempio ho dovuto togliere alcune righe per farlo entrare, che comunque non interessano in questo momento. Ma come potete vedere, la rappresentazione è diversa, tipo non c'è la posizione assoluta, ma abbiamo più informazioni come ad esempio il nodo end of file alla fine e anche il white space dove c'è la keyword let. Come vedete, è un'informazione che prima non avevamo. Ora prendiamo lo stesso codice e mettiamoci un commento. Nell'ST il commento è, diciamo, in una parte diversa del codice, viene allocato in una parte che non ha nulla a che vedere con il body. Mentre nel CST, come potete vedere, lo stesso codice, mettiamo il commento attaccato all'identificativo A. Quindi queste informazioni vengono, sanno decorare i token che vediamo quando rappresentiamo il file. Questa è una cosa importante perché ci permette di fare cose che con una LST non siamo in grado di fare. Ora, non c'è una regola d'oro per la creazione di CST. Ok? Quindi, vari parser, diciamo, rappresentano il CST in maniera differente. Però ci sono delle regole, diciamo, basi, diciamo, delle fondamenta che sono la possibilità di ricoverarsi dagli errori. Quindi, quando si trova un errore di sintassi, il parser deve cercare di riprendersi, non deve, diciamo, fermare il programma e dire, ok, c'è un errore, basta, non faccio più il mio lavoro. No, lui deve continuare a fare il suo lavoro e cercare di farlo nel modo migliore possibile. E seconda cosa, tracciare tutte le informazioni del programma, quindi, spazi, commenti, new lines, eccetera, eccetera. Un esempio di CST, Treesitter, Treesitter è un progetto open source abbastanza famoso, hanno, diciamo, SSTD del più disparati linguaggi e anche bindings, quindi C, Rust, Python e viene utilizzato anche in GitHub, quindi, diciamo, è testato per la produzione. Rust Analyzer che è il linguaggio server ufficiale di Rust, se usate VS Code installate Rust Analyzer e vi dà un'esperienza veramente fatta bene. Roslyn che è il compilatore che pompa Visual Studio, Swift dall'omonimo linguaggio, anche lui usa CST e ROM e ovviamente sono altri come negli IDIS sicuramente come WebStorm o altre cose utilizzano CST. Ora, recentemente abbiamo visto il CST che aveva informazioni crue, diciamo, che non aveva tutto quello che ci serviva, come ad esempio la posizione assurda all'interno degli nodi. Questo, diciamo, è un problemino perché, insomma, quando io voglio creare un errore voglio sapere dov'è l'errore. Quindi, qui entra in gioco un concetto che si chiama il concetto di alberi verdi e alberi rossi. Cos'è questo concetto? È un concetto che è nato a Microsoft. L'hanno cognato loro quando hanno dovuto ridisegnare il compilatore per Visual Studio. Diciamo, quindi, una decina di anni fa più o meno e sta, diciamo, messo in produzione ufficialmente nel 2012 ma è stato lavorato per almeno due o tre anni da Microsoft e il nome in codice è Roslyn. Ora, il creatore di Roslyn è praticamente il creatore di C Sharp e anche di TypeScript quindi è un genio. Mi sa quello che faceva. Allora, quando hanno creato questo paradigma hanno detto ok, questi sono i requisiti necessari per quello che dobbiamo fare. Una struttura dati immutabile, quindi una volta creata non si può più modificare. Una forma d'albero come abbiamo visto prima. Un accesso, quindi dato un nodo, un accesso al genitore in modo a costo basso e persistente. Allora, persistente in questo caso vuol dire che nel caso che stiamo scrivendo del codice. Quando io digito un tasto quella ST praticamente cambia. Praticamente distruggiamo tutto e dobbiamo ricostruire tutto da capo. Persistente vuol dire che dobbiamo praticamente cambiare solo il nodo che è stato modificato e riutilizzare tutto l'albero che non è stato modificato. Allora, questo diciamo che non è semplice ma è un'operazione di log di N quindi è molto molto basso. quindi hanno detto ok perfetto creiamo quindi un albero in cui è immutabile non ha referenza ai propri genitori quindi non so se l'avete visto prima ma i SST praticamente non sanno dove sono sanno semplicemente dove sono all'interno del codice in termini di larghezza e quindi non hanno referenza alle posizioni assolute. E poi c'è l'albero rosso l'albero rosso è praticamente una facciata una façade che viene creata a richiesta quindi se vogliamo determinate informazioni andiamo dall'albero verde l'albero verde computa queste determinate informazioni e viene creato l'albero rosso. Quando utilizziamo le informazioni dopo di che tutto viene scartato. Ora questo è un esempio di albero verde e albero rosso in ROM quindi sono le stesse identiche cose quindi a sinistra abbiamo il SST e a destra abbiamo l'albero rosso che viene utilizzato attualmente nel nostro formatter. Come potete vedere non ci sono le posizioni assolute perché non ci servono. Nel formatter non abbiamo bisogno di queste informazioni quindi non c'è bisogno di computarle. Quando è che le computiamo queste informazioni? Quando ad esempio dobbiamo mostrare degli errori. Quindi se dato questo esempio di codice abbiamo un errore dopo la prima dove manca la virgola e lì computando la posizione quindi siamo in grado di dire allo sviluppatore dov'è l'errore. C'è anche da dire che comunque computare la posizione assoluta non è economico diciamo ci vuole bisogna ispezionare tutto il codice sorgente quindi diciamo lo facciamo solo quando ci serve. quindi voglio farvi vedere adesso come in rom nabiliamo un labilo verde questo è un esempio di quando vogliamo ispezionare un determinato nodo quali sono le operazioni che abbiamo a disposizione come potete vedere possiamo recuperare i commenti legati a un determinato nodo possiamo vedere se ha dei commenti possiamo prendere il tipo di nodo i genitori e anche i children invece questo è un esempio di lista una lista può essere ad esempio siamo in un array un array può avere una lista di altri nodi quindi in qualche modo dobbiamo recuperarle e questo è come li recuperiamo quindi abbiamo delle API in cui possiamo recuperare gli elementi possiamo recuperare la grandezza di questa lista se è vuoto oppure no e altre cose che vengono date da Rust ma tipo elements la seconda è creata da noi e poi c'è il concetto di trivia allora i trivia sono tutte quelle cose che non appartengono essenzialmente a un codice ovvero i commenti i commenti possono essere ovunque ma possono anche non esserci sono trivia proprio per questo spazi direttive e quant'altro ora la categorizzazione di trivia è arbitraria quindi è a descrizione dello sviluppatore come etichettare questi trivias in Roma abbiamo deciso di etichettarli con commenti new lines e spazi ad esempio in Rust Analyzer hanno deciso di mergiare spazi new lines come solo spazi e all'interno degli spazi potete vedere le new lines noi abbiamo fatto questa distinzione perché ci aiuta molto all'interno del formatter perché dobbiamo sapere ad esempio se ci sono delle new lines o degli spazi e categorizzare ci aiuta in questo e infatti proprio per questo adesso voglio farvi vedere come diciamo categorizziamo i commenti all'interno del codice e come vengono attaccati ai singoli token allora c'è una definizione anche questa creata da Roslyn e avvallata anche da Swift che utilizzano e dice che abbiamo due diversi di trivia i leading trivias e i trailing trivias i leading trivias sono quelli che si trovano prima del token e i trailing quelli che appaiono dopo in questo esempio abbiamo c'è un esempio di leading e di trailing allora il primo è un trailing trivia appartengono al let e la regola dice che i trailing sono tutti trailing trivia fino al primo new lines escluso i leading trivia sono tutti trivia fino al successivo new line compreso come potete vedere nel secondo categorizziamo il new line i commenti e poi comprendiamo anche il new line successivo non è così per il primo e poi c'era la famosa caratteristica dell'error recovery allora l'error recovery è molto molto complessa non è semplice da fare perché perché il parser deve sapere cosa sta parsando e come diciamo riprendere a parsare in una maniera decente in linea generale quando il parser si dice entra in recovery mode tutti i token che sono diciamo strafalcioni ovvero cose che non c'entrano niente nella posizione in cui stava parsando vengono etichettati dentro un nodo che si chiama bogus o strafalcione il rom li chiamiamo unknown quindi diciamo che il nome è arbitrario ma diciamo rende l'idea e una volta che il parser si riprende devo comunque riprendere a parsare in una maniera decente cioè se stiamo parsando una funzione e c'è un errore poi non possiamo riprendere a parsare come se stava parsando un array non ha senso quindi c'è anche un contesto di mezzo voglio farvi vedere un esempio di cst con un errore di sintassi sempre in rom allora qui abbiamo due errori il primo non c'è il nome della funzione e il secondo abbiamo una parentesi tonda chiusa in eccesso ora il nome diciamo che il nostro parser non lo trova dice e crea un errore di diagnosi e poi continua per il secondo cosa dice ok data la grammatica di una funzione io mi aspetto che dopo la parentesi chiusa ci sia uno statement e uno statement ha delle sue regole e la parentesi chiusa non fa parte di quella quindi cosa dice cavolo non c'è uno statement vabbè allora cosa faccio entro il recovery mode e inizio a mangiare tutti i token che non appartengono a uno statement quando poi trovo un token che fa parte di uno statement in questo caso la parentesi graffa dice ok mi ricorda che questo è un blocco e riprende a riparsare in modo corretto quindi questo ci dà la possibilità di creare un albero sintattico che comunque ha senso e questo ci permette di estrarre delle informazioni anche da del codice che è rotto che ha degli errori di sintassi questo è un esempio di come facciamo l'error recovery in ROM il codice è rust però è molto semplice da capire allora nel commento abbiamo una funzione con un errore in un parametro dove c'è a++ il più è praticamente l'errore quindi cosa dentro lo ROM cosa diciamo ok c'è il parametro se questo parametro non ha senso andiamo in recovery mode e quando andiamo in recovery mode cosa gli passiamo gli passiamo innanzitutto il nome del nodo bogus strafalcione che vuoi etichettare gli passiamo questo token set che esattamente dice quando trovi uno di questi token riprenditi ok e riprendi a passare i parametri e tra questi c'è ad esempio la virgola quindi lui prende il più che è errato prende il secondo più che è errato perfetto ha trovato la virgola crea il js known parameter e poi riprende il parsing come era prima e poi c'è il terzo il terzo parametro che è praticamente l'errore che vogliamo dare poi all'utente che è quello che dice che mi aspettava un parametro ma non l'ho trovato ho trovato una cosa che è un nonno non so cosa sia detto tutto ciò prendiamo tutte queste belle cose che abbiamo appena visto le mettiamo tutte insieme e creiamo un formato il formato è stato rilasciato più o meno un paio di settimane fa tre settimane fa è nuovo ok è stato scritto completamente il rust funziona con il cst quindi è una cosa abbastanza nuova perché non credo che in giro almeno per il mondo javascript ci sia un formattatore che utilizzi il cst quindi siamo abbastanza posso dire immaturi novizi però abbiamo creato anche dei concetti nuovi che Pritter non ha l'algoritmo di formattazione è preso dal vecchio rom quindi era un algoritmo stabile lo abbiamo migliorato rispetto a Pritter ha una formatazione diversa se non migliore quella diciamo un po' relativa dei commenti è veloce ed è in grado anche di formattare codice che è errore di sintassi è in beta e potete usare con VS Code ed opt-in perché? perché ci sono tanti sviluppatori che utilizzano formatter per capire se ci sono degli errori quindi se non formato vuol dire che non va io sono il primo a farlo quindi ok perfetto allora voglio farvi vedere quanto è veloce almeno perché è bello parlare e poi non mostrare le cose allora in questo progetto ho praticamente due cartelle la cartella di TypeScript e Tools TypeScript è praticamente il progetto proprio TypeScript e Tools praticamente il vecchio progetto ROM scritto in TypeScript ora un po' di più perfetto ok vediamo un po' allora ho quattro script uno con Prittier e uno con ROM e ora vi faccio vedere la differenza quindi innanzitutto prima cerchiamo di formattare il progetto TypeScript usando Prittier ecco adesso si ferma il CheckerJS il CheckerJS è praticamente il file che fa l'intero TypeCheck ed è tipo 2 mega e 6 di file quindi è abbastanza grosso immaginatevi fare una cosa del genere nella CI insomma esatto esatto ok allora lo fermo perché comunque sono tipo 500 e passa file quindi ci vuole il suo tempo e ora facciamolo con ROM boom finito già fatto ok abbiamo trovato un paio di errori di sintassi perché comunque il nostro parse è giovane ok non abbiamo l'esperienza alle spalle di TypeScript o Babel quindi su questo colpevoli ma abbiamo formattato 500 e passa file si vede comunque in 2 secondi più o meno escluso ovviamente i tempi per scrivere in console quindi questo comprende anche le operazioni di input app quindi lettura e scrittura su file ora proviamo con il vecchio progetto ROM che sono 2000 e passa file comunque sono file relativamente piccoli in generale contiene errori di codice perché ci sono anche dei test del nostro parse però comunque ok ci metto un po' esatto allora un disclaimer allora adesso vedrete tanti errori di parsing perché ci sono test praticamente volutamente rotti per testare gli errori però ha finito boom adesso dobbiamo andare su purtroppo ci stiamo lavorando abbiamo in non è ancora stato rilasciato ma abbiamo messo l'informazione adesso alla fine invece che all'inizio scusate però ci arrivo ok mi sa che la code base è un po' da rivedere sì eccolo qua quasi 4000 file in meno di un secondo diciamo immaginate fare una cosa del genere un'applicazione enterprise diciamo che risparmiate un bel po' di tempo ora voglio farvi vedere questa famosa cosa di cui ho parlato prima che recovery mode e la possibilità di formattare codice rotto allora perfetto dovrebbe esserci allora qui abbiamo un piccolo snippet dove abbiamo un'ora di sentarsi nel while e facciamo facciamo mettiamo qualche spazio qua e là ok la cosa è che essendoci un errore di sintassi qua praticamente rovina tutto anche qui il for non sa cosa fare perché il parser che c'è sotto il yes code non sa cosa dice ora formattiamo e boom nonostante ci sia stato un errore siamo stati in grado comunque di formattare tutto anche riproviamo con il for anche per dimostrarvi che praticamente anche dopo il while il nostro parser è in grado di recuperarsi con un determinato contesto ed ecco qua vediamo un po' se vi posso far vedere anche il cst no ok e qui come potete vedere qui ci mostra l'est relativa a questo codice e dovremmo vedere da qualche parte un unknown penso qui no però ecco perché praticamente dice ecco questo è praticamente il problema dice che dei token che sono praticamente obbligatori per il while non sono stati trovati e quindi questo indica che è un errore però come potete vedere comunque abbiamo un while statement e abbiamo comunque un full statement quindi siamo stati in grado di creare un un ast decente da un codice che contiene i loro disintassi un altro esempio sono i commenti ora vi mostro come facciamo le cose perfetto ho messo abbiamo due funzioni identiche abbiamo messo questo commento dopo il il token function e poi abbiamo questo commento dopo la parentesi graffa ora prittier non ci azzecca molto però come abbiamo detto la posizione dei commenti neanche relativa a diciamo all'opinione dello sviluppatore quindi prittier dice una cosa noi ne diciamo un'altra e noi diciamo che questo something non è andato doveva andare ok vediamo un po' ecco cosa volevo fare ok quindi in questo caso diciamo che abbiamo trovato quel commento ma quel commento secondo noi non dovrebbe stare dove c'è la funzione il token function decidiamo di metterlo dopo il body quindi e questo perché perché nel SST ogni token ha i suoi commenti e in base a quello diciamo ok sto formattando determinato questa cosa e questo commento secondo noi il formatter dice non dovrebbe stare qui secondo noi ha più senso che magari lo sviluppatore voleva fare una cosa e diciamo avere di fretta ha detto ok lo mettiamo e secondo noi diciamo che abbiamo una migliore gestione dei commenti perfetto detto ciò andiamo avanti ok quindi abbiamo visto tutto ciò un sacco di cose anche particolarmente difficili abbiamo visto che Priter ci mette un sacco di tempo e ci siamo detti ma con JavaScript possiamo raggiungere queste performance questo livello di logica e di complessità a quel punto abbiamo detto no io ho iniziato anche a lavorarci con TypeScript e quando lo utilizzavo vedevo che comunque ci metteva su tempo e con Node raggiungevo anche 2 giga di memoria mentre cercavo di buildare ROM stesso abbiamo detto ok ci siamo guardati attorno e abbiamo detto proviamo a usare Rust perché Rust? innanzitutto perché Rust per ROM? allora parliamo prima di Rust allora Rust è un linguaggio di sistema possiamo paragonarlo ad esempio a C o C++ quindi è proprio dove gestiamo la memoria in molti sensi però Rust è un qualcosa in più allora di default è mutabile quindi quando creiamo una variabile di default rimane mutabile quindi bisogna volontariamente crearla mutabile se vogliamo molti errori vengono catturati durante la compilazione allora il compilatore è una cosa fenomenale il Rust è in grado di catturare la maggior parte degli errori prima che il codice vengono compilato ed è talmente bravo che c'è questo detto che dice che se il codice compila allora funziona chiaramente ci sono delle eccezioni ma è diventata praticamente un dato di fatto ha molte caratteristiche molte caratteristiche prese da vari linguaggi quindi non è che rinventa la ruota è un linguaggio molto molto tipato quindi prendete il linguaggio più tipato che conoscete e fatelo ancora più più rigido e tipato ha il pattern matching che è uno switch con gli steroidi ha il concetto di ownership borrow checker che diciamo sono caratteristici di Rust ma vengono da un linguaggio chiamato Cyclone linguaggio abbastanza vecchio che doveva essere un'alternativa C fearless concurrency quindi la possibilità di lavorare con multitreading senza paura diciamo perché utilizza questo ownership borrow checker per poter evitare stalli quando si lavora con i thread che praticamente succede quasi sempre chiaramente non è una scienza esatta c'è sempre la possibilità di creare dei deadlock ma Rust diciamo le cattura è moderno perché perché siamo in grado di scrivere documentazione all'interno del codice quindi quando scriviamo codice possiamo creare dei commenti di documentazione e quando compiliamo Rust crea una pagina web con la documentazione e questa documentazione può anche contenere i test quindi se il test non passa non compila e quando compila questa documentazione mostra il codice vero e proprio quindi rende gli sviluppatori diciamo più ok so cosa sta facendo è inclusivo diciamo è una codice di condotta fatta molto bene include tutte le minoranze che possiamo immaginare le protegge e se qualcuno sgarra diciamo è escluso dalla comunità ok e la fondazione Rust è gestita da volontari quindi non c'è nessuna enterprise sotto nessuna multinazionale che promuove il linguaggio quindi è una serie di volontari che hanno i ruoli all'interno della fondazione e continuano a lavorarci e poi la comunità adesso è diventata diciamo è orientata alla sicurezza del codice quindi usata una libreria è fatta bene ora perché abbiamo scelto Rust per ROM innanzitutto perché ci sono meno compromessi da fare sulle librerie di terze parti il vecchio ROM non aveva nessuna dipendenza zero era tutto fatto in house ovviamente abbiamo preso magari ogni tanto del codice open source l'abbiamo forcato internamente abbiamo dato i crediti a loro ma era tutto interno perché volevamo sapere cosa succedeva all'interno del codice che scrivevamo ma con Rust diciamo questi compromessi sono molto molto meno perché la comunità è orientata diciamo alla correttezza vera e propria del codice quindi quello che fanno funziona è produttivo allora Rust è famoso perché ha diciamo una curva di apprendimento molto molto rigida all'inizio molto difficile molto ripida ma una volta che diciamo si capisce come funziona si fa un sacco di cose e poi ha questo sistema di trait che è una specie di inheritance o programmazione oggetti una meta programmazione di oggetti che permette i breaking changes di librerite se parti indolori ok come Rust ci ha reso più produttivi perché diciamo lo diciamo ma vogliamo farvi vedere come lo usiamo innanzitutto l'uso estensivo di numeratori allora se avete usato typescript o anche altri linguaggi che utilizzano i numeratori in typescript ad esempio possono contenere tipo dei numeri o delle stringhe e basta e poi comunque diciamo non è che scompagnano ma diventano un oggetto alla fine quindi non c'è molto valore a parte il type check però in Rust gli numeratori vanno oltre cosa possono contenere strutture dati complesse quindi ogni voce dell'enumeratore può contenere anche una struttura dati complessa come vettori hash map linked list eccetera eccetera possono anche contenere logica quindi anche funzioni quindi su un numeratore possiamo fai qualcosa in base a determinati valori può aiutarci anche nella creazione di logiche dinamiche quindi se venite da javascript dove tutto è dinamico gli numeratori ci aiutano in questa dinamicità e poi si sposa perfettamente per il pattern matching che praticamente dice ok dato un numeratore dobbiamo praticamente gestire tutti i singoli valori di questo numeratore ora voglio farvi vedere come lo usiamo in ROM ora questo è un numeratore molto molto semplice come vedete parsed syntax e diciamo è presente oppure assente ecco non sto scherzando ma l'intero parser all'intero di ROM si basa su questo singolo numeratore diciamo che in base se assente e in base a cosa stiamo parsando possiamo creare un diagnostic quindi un errore possiamo andare in recovery mode possiamo dire ok va bene se non ci sei posso andare avanti perché magari non è obbligatorio eccetera 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 quindi con un semplice numeratore siamo stati in grado di creare un'architettura veramente veramente complessa ma da una cosa molto molto semplice questo è un altro numeratore che utilizziamo ad esempio nel formatatore dove quando abbiamo un array o un oggetto o un destructuring è separato da delle virgole o in typescript dai punti e virgola qui diciamo se quello che c'è alla fine è permesso oppure no oppure obbligatorio e questo è un esempio di come sempre nel formatatore lo usiamo di come immagazzinare informazioni complesse e anche di diverso tipo quindi ogni diciamo voce del numeratore può contenere informazioni di diverso tipo questo lo usiamo quando abbiamo delle ricorsioni all'interno del 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 parser come ad esempio call expression oppure sequence expression cose così quindi sono ricorsive quindi può essere infinito e dobbiamo praticamente normalizzarlo quindi farlo diventare una una cosa una cosa flat quindi e questo è il numeratore che utilizziamo quindi quando vediamo tipo una call expression o un computer expression cose così immagazziniamo il valore del nodo e poi un vettore di elementi formattati ma se se vediamo un altro nodo che non ci interessa lo immagazziniamo in una maniera differente tant'è che la gente ha detto basta i booleani utilizzano i numeratori quindi vabbè diciamo yes o no che ha senso alla fine perché comunque il booleano è troppo diciamo che è difficile da gestire ogni tanto perché non ti dà diciamo cos'è false cos'è true devo andare a vedere il nome della variabile capire qual è il significato di quel booleano mentre se noi usiamo un numeratore il significato è all'interno del nome quindi anche lo sviluppatore è contento una diversa diciamo visione della programmazione degli oggetti allora sappiamo cos'è la programmazione di oggetti funziona la usiamo e va bene ma ogni tanto no Rust ha un diciamo un concetto di inheritance diciamo diversa dalla programmazione oggetti quello che consiglio è di cercare di non replicare il classico uso della programmazione di oggetti perché altrimenti il compilatore diventa invece di essere un amico diventa un nemico ed è praticamente si crea codice che non è architettato bene quindi Rust ci dà questo sistema di trait quindi caratteristiche per condividere determinati comportamenti diciamo comportamenti condivisi da diverse strutture dati adesso faccio vedere qualche esempio questo è un trait che utilizziamo per gli alberi rossi del nostro IST ho tolto un po' di funzioni perché diciamo non c'entravano qui però come potete vedere possiamo solo definire funzioni come una sorta di classe astratta dove dice ok questa è la funzione A B C e questo è l'input e questo è l'output quindi non è una cosa nuova ops scusate ok questo è ad esempio l'implementazione di di IST node per ad esempio il nodo JSRay expression come potete vedere nella prima cancast diciamo se kind è uguale uguale JSRay expression il resto diciamo non ci interessa molto ma voglio farvi vedere come possiamo fare la stessa cosa con altri nodi che appartengono a linguaggi differenti quindi questo è un nodo che appartiene a CSS su quale sto lavorando in questi giorni dove implementiamo le stesse caratteristiche quindi le stesse funzioni per una determinata struttura dati quindi come potete vedere è una cosa che ricorda la programmazione ad oggetti ed è questo che possiamo fare in Rust seconda cosa terza cosa è un linguaggio molto molto tipato talmente tipato che se avete diciamo familiarizzazione con TypeScript ad esempio lì i tipi ci aiutano ma poi vanno via una volta che il codice viene compilato invece in Rust i tipi sono parte integrante del codice e non spariscono dopo la compilazione quindi possono essere usati per creare delle logiche molto molto potenti ma allo stesso tempo tutti e questo è un esempio un codice allora un po' difficile da capire però dove abbiamo il primo IST node non so se vi ricordate che avevamo prima è una caratteristica ok quindi diciamo per IST node lasciate stare to format element in questo momento però praticamente stiamo implementando un trait per questo format token e node che è un altro trait quindi non è una struttura dati non è tipo un vettore o una stringa niente è un trait quindi è un trait su un trait ma la cosa particolare è quell'n lì quell'n lì non è come vi potete vedere prima da qui ad esempio un nodo in questo caso era un nodo quindi una struttura dati ben definita uno struct quindi un oggetto se vogliamo definirlo in javascript in questo caso n è un tipo che viene definito all'inizio dove c'è impl dove c'è impl abbiamo n che è nodo praticamente e lo mettiamo alla fine quindi stiamo praticamente definendo un comportamento su un tipo questo vuol dire che quando poi ho una struttura dati che è un ist node di conseguenza poi può usare la funzione format with questo quando l'ho implementato ci ha permesso praticamente di rivisitare come tutti i nodi venivano formattati utilizzando delle API molto molto più eleganti e molto più semplici da implementare all'inizio utilizzavamo cioè lo sviluppatore doveva sapere cosa stava formattando se un nodo o un token questo non è il massimo perché richiede allo sviluppatore di ispezionare esattamente il tipo e quindi deve vedere se deve andare sull'ID e vedere se l'ID c'è il tipo no non va bene in questo modo ogni nodo lo stesso nodo che ha este nod praticamente ha anche la funzione format with e questo ha migliorato esponenzialmente la produttività ok ho finito di mostrarvi come utilizziamo Rust in Rome se volete apprendere Rust vi consiglio il libro ufficiale che ho usato per apprendere Rust è veramente fatto bene l'inglese è molto semplice da capire e ha praticamente tutti esempi fatti bene e poi ci sono gli esercizi ufficiali quindi sempre mantenuti dalla fondazione e ogni esercizio praticamente ci rimanda anche al libro ufficiale quindi se non sappiamo cosa fare chiediamo aiuto e ci riporta al capitolo da leggere è a posto diciamo che stiamo assumendo quindi se siete interessati stiamo cercando delle nuove persone in questo caso diciamo Rust developer però vi consiglio anche di diciamo dare un'occhiata tra un po' di tempo anche tra un 6 mesi un 8 mesi perché inizieremo anche a costruire i servizi di rom da vendere e lì diciamo dell'expertise su javascript sarà importante perché se bastiano vorrà fare tutto l'inizio in javascript e utilizzare Rust solo dove c'è bisogno grazie io faccio la valletta da fuori passo un po' di domande intanto che ce ne abbiamo un paio ma piccolo appunto typescript con gli enum paragonarlo a Rust è un po' cattivo visto che typescript li vede poi passa via e al runtime non esistono più abbiamo iniziato con rom come toolchain di varie cose abbiamo parlato come alternativa di prittier di babbel di bundler eccetera abbiamo visto particolarmente la parte ST tutta la parte di prittier competitor e gli altri tool che ovviamente poi si basano su tutto il lavoro fatto sul CST non la ST perdonami e tutto il resto tipo il bundling a che punto è e come si pone in competitor rispetto a un web a che turno o simili e se ci sono nella roadmap altri tool che non so veramente perché non ho approfondito se già sono utilizzabili o ci sono in roadmap a livello di stato di progetto si è vero comparare gli immobili TypeScript Rust non è stato il massimo però volevo fare diciamo una comparazione se gente non ha del background almeno con TypeScript sono familiari allora il bundler ancora no non è pronto perché comunque come ho detto precedentemente abbiamo rifatto tutto da zero quindi abbiamo deciso ok tutto da zero e iniziamo con il formatter perché è stato quello che con il quale siamo stati riusciti ad essere più produttivi nel modo più veloce ad esempio all'inizio abbiamo utilizzato una libreria JSON per iniziare a sperimentare con il formatter e il bundler arriverà dopo perché abbiamo comunque bisogno comunque di la creazione della gestione delle dipendenze quindi grafi di tutte queste cose qua che richiede tempo quindi abbiamo deciso ok iniziamo con il formatter poi andiamo con gli analyzer che sono praticamente linter perché perché con linter iniziamo a fare le mutazioni del codice e da lì possiamo praticamente poi fare tutto poi anche perché il bundler comunque in un certo senso richiede anche la mutazione del codice in caso poi si fa il bundling vero e proprio risposto alle domande e dunque allora sì diciamo stiamo lavorando alla roadmap dobbiamo riaggiornarla dunque abbiamo finito il parsing di tistrick jsx e javascript abbiamo iniziato da poco il parsing di json e css e in contemporanea stiamo lavorando all'inter e sempre in contemporanea stiamo comunque mantenendo e rendendo più maturo il format perché abbiamo detto ok Prettier comunque è stato il primo formatter che è stato creato e ha praticamente creato uno standard non possiamo metterlo in secondo piano quindi abbiamo detto siccome la maggior parte dei sviluppatori è abituato a come Prettier format lo facciamo anche noi perché gli diamo credito e diciamo ok sei uno standard ti vediamo dietro e facciamo le cose come fai tu quindi abbiamo anche intenzione di supportare stiamo discutendo anche sulle pozioni da da mantenere quindi stiamo anche parlando con i mantenori di Prettier per capire cosa vogliono fare oppure no e quindi vogliamo cercare di renderlo più maturo perché comunque siamo comunque anni luce indietro siamo immaturi rispetto a Prettier Prettier è da anni che sta facendo sta cosa quindi sicuramente sono migliore domanda dal pubblico poi ritorno su quelle online cerco di limitarmi allora prima domanda il tooling moderno di javascript quindi webpack babel Prettier hanno tutti in comune fra le varie cose più o meno varie qualità di esperienze si utilizza però hanno tutti la stessa caratteristica che sono hanno un plugin system e bene o male non mi viene in mente che un plugin system scritto per Rust per sviluppatori JS vuol dire o vi dovete passare il javascript o sarà basato su o sarà basato su essenzialmente su json si tassi json yaml eccetera eccetera e quindi mi viene in mente che fate è veramente un'ottima domanda perché è un problema veramente grosso perché in javascript essendo dinamico puoi fare molte cose senza problemi Rust essendo un linguaggio tipato devi prima compilarlo quindi ci sono due opzioni la prima è avere creare praticamente dei bindings no JS quindi essenzialmente puoi creare il plugin utilizzando uno JS binding e questo poi si lega a runtime al codice binario di Rust questo però è complesso un'altra alternativa che stiamo esplorando è webassembling non so se ne hai sentito parlare ma webassembling è praticamente sì 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 Rust praticamente è in grado di compilarsi in webassembly quindi l'idea è che una persona crea il plugin o in Rust o in javascript e poi runnare un comando che è tipo compile o qualcosa del genere il plugin viene compilato in webassembly quindi alla fine semibinario e poi ROM è in grado di leggere questo binario ahead of time e poi fare quello che il plugin fa diciamo che comunque non sarà facile da fare però non ci stiamo pensando perché comunque abbiamo altre priorità però ne stiamo discutendo ogni tanto per capire come fa ne prendo una online anche da casa e Guido chiede mettiti sulla domanda si può già usare ROM per scrivere code mod diciamo la velocità con cui ha elaborato tutti quei file ha suscitato la domanda del se voglio modificare una code base così grande attualmente non ancora anche se uno dei miei colleghi ha menzionato il pubblicare il nostro parser proprio installarlo da cargo che è il toolchain di Rust però diciamo siamo un po' in conflitto perché comunque a questo momento siamo in pochi e mantenere una libreria per tutti diciamo non è semplice richiede comunque tempo per per stargli dietro però la creazione di code mod è anche un'altra cosa che abbiamo intenzione di fare in ROM come ad esempio è uscito React 18 da poco e vogliamo fare un upgrade automatico invece di farlo manuale ecco questa è una cosa che vogliamo fare anche noi perché vogliamo il toolchain per il web e questa è una cosa che noi sviluppatori purtroppo dobbiamo fare ogni volta che sono dei breaking changes ed è questa anche una delle nostre missioni quindi velocizzare questi tipi di breaking changes utilizzando ecco questo CST questo sistema di CST e di manipolazione del codice che stiamo lavorando con gli analyzer grazie a te perciò mi faccio un giro io un'altra domanda che avevo bello tutto voglio usarlo a livello di formatter Ritter ci ha abituato a n regole e n cose il c'è un set di regole impostabili c'è una configurazione che si può dare in qualche modo oltre a scrivere quello diciamo prima il futuro plug-in che mi crea la mia regola custom come a livello di production Riti allora a livello di opzioni configurabilità e cose del genere per ora siamo molto ristretti diciamo poi si può modificare la line width quindi la quantità di carattere per una sola riga e spazi o tabs questo per ora è l'unica cosa stiamo valutando altre opzioni con Ritter ma c'è anche il discorso che ogni opzione crea dibattito tra gli sviluppatori abbiamo già il dibattito di tabs e spazi che non finirà mai ma purtroppo è una realtà c'è anche il dibattito tra gli apici singoli e doppi in javascript anche quello anche quello esatto quindi quello che vogliamo fare vogliamo evitare questo dibattito che in inglese si chiama bike shedding ovvero discutere sul il cappannone quando in realtà c'è la bici rotta cioè quindi non c'entra niente quindi stiamo valutando le opzioni molto molto in modo molto minuzioso e capire se hanno senso o no ad esempio i punti e virgola mi sa che non li vogliamo fare cioè i punti e virgola comunque richiedono anche delle regole di lint perché in alcuni casi non avere un punto e virgola cambia praticamente l'intero codice ed è soggetto quindi a errori e quindi hai bisogno di molti analyzer e quindi gli ho detto no non vogliamo farlo ad esempio punti e virgola li lasci è a posto alla fine no no li hai però se una persona dice non voglio averli perché secondo me ad esempio c'è una persona che oggi ha scritto un commento su github dicendo ah però quando lavori su linguaggi che non utilizzano i punti e virgola dici cavolo è molto meglio e quindi poi ritorna su javascript e non vuole più i punti e virgola però purtroppo in javascript non è come gli altri linguaggi quindi c'è ad esempio un set che si chiama standard js che è fatto per non utilizzare punti e virgola però però dietro ci sono tante regole yes linked per cercare di catturare potenziali errori che puoi avere a run time quindi non vogliamo questo e poi ci sono altre opzioni che stiamo discutendo è tutto su github il mio collega ha recentemente aperto delle discussioni con delle proposte se la gente la maggior parte della gente non dice niente diciamo ok secondo noi va bene abbiamo anche contattato i tizi di pritier per capire se ha senso o no mantenere determinate opzioni perché anche loro si stanno ricredendo all'inizio hanno creato tante opzioni e adesso hanno una pagina in cui dicono che abbiamo cambiato idea non vogliamo non vorremmo più avere tutte queste opzioni perché creano tanto dibattito per niente alla fine il formatatore è fatto per ok lo stesso stile e basta ti focalizzi più sul codice vero e proprio che chiaro chiaro non ti voglio mettere in difficoltà su cosa c'era o non c'era ma per capire lo stato perché comunque i risultati sono ottimi anche da casa sono arrivati i complimenti sia sulla presentazione che sui risultati del parser e quindi spero di usarlo presto senza sentire la mancanza di un pretty additurno ce l'hai al volo? un paio di domande veloci su Rust ho avuto modo di fare velocemente senza ho fatto un po' di skimming del codice in generale quando sono venuto qui mi facevo due domande la prima che cosa utilizzavate per la gestione della concur se utilizzavate una work pool una pool di workers non lo so se mi puoi dire se usate crossbino se mi puoi dire due parole su questo perché sono curioso e secondo in quanto Rust avevo le domande su gli alberi non sono facili da fare in Rust in generale richiedono interior mutability o qualcosa di fra l'altro io stavo vedendo qui stavo vedendo la classe cursor che è un po' particolare su stavo vedendo Rom Rowan cursor che è un po' particolare per questo mi chiedevo magari se mi fai brevemente menzionare su questi problemi che non sono semplici come state gestendo allora la concurrency precedentemente Node adesso Node è in grado di gestire concurrency recentemente quindi utilizza il numero di CPU e avevamo un sistema di multitrading interno quindi Sebastian ha creato proprio da solo questo sistema di concurrency aveva un pool che diciamo che c'era un'euristica un po' del genere del tipo in base a quanti file sto analizzando se sono più se sono più tipo di di 100 allora a quel punto interrogo la thread pool e spono che ne so 3 thread o 4 thread in base a quante CPU sono a disposizione adesso in Rust ci sono delle librerie veramente veramente fatte bene che sono diventate lo standard quindi tipo Rayon cross beam parking lot insomma ci sono varie librerie focalizzate sul multitrading che sono veramente veramente fatte bene ad esempio in Rust c'è il concetto di iteratori quindi date una serie di elementi una lista l'iteratore ti permette diciamo di ciclare su su tutti gli elementi e c'è questa libreria che si chiama Rayon che con una semplice tipo iter async una roba del genere ti trasforma l'iteratore in multitrading da solo quindi l'iteratore senza diciamo come per magia diventa multitrading e viene gestito tutto da solo con una semplice API quindi l'esperienza dal punto di vista del developer cresce molto e la seconda domanda ok riguardo il cursor questa cosa qui allora quello in quel caso è un fork di Rowan ok Rowan è praticamente la libreria che gestisce gli alberi rossi e verdi che abbiamo visto prima quindi prende la teoria e la trasforma in Rust e viene usato da Rust Analyzer cosa abbiamo fatto abbiamo avuto una conf call con il creatore di Rust Analyzer e di Rom Rowan che ci ha detto ok volete fare la stessa cosa che stiamo facendo noi vi consiglio di fare un fork e di ampliarla come volete quindi abbiamo preso il suo consiglio l'abbiamo presa e abbiamo iniziato a modificarlo ovviamente ci sono alcune parti come il cursor che sono unsafe in Rust c'è il concetto di safe e unsafe safe praticamente il compilatore è in grado di vedere come stai gestendo determinate variabili se il borrow checker è tutto a posto quando c'è unsafe praticamente tu bypassi il controllo del compilatore per fare cose che in teoria non sarebbero possibili in un ambiente safe di solito questi ambienti safe devono essere comunque ben calcolati e richiede attenzione ma la comunità comunque è orientata a questo tipo di cose quindi c'è gente che dice ok usiamo l'unsafe solo per fare tipo l'assegnazione a una reference o a un puntatore queste cose qua non usiamo l'unsafe per un'intera funzione ecco e questa è una delle cose dove abbiamo detto ok questa è una bella comunità perché è orientata alla sicurezza però ecco ci sono cose un po' strane che richiedono ecco ma gli estremi estremi un paio al volo da casa ovviamente non capita tutti i giorni di scrivere un formatter e quindi diciamo da lato sviluppatori che sviluppano per web non sembra tanto nuovo ovviamente la domanda esce spontanea e arriva da robito qual è la sfida più grande la sfida più difficile che hai affrontato nell'approcciare il formatting sì allora obiettivamente secondo me oddio no secondo me il formatter è forse uno dei programmi più difficili da scrivere e non solo io a dirlo ma ci sono anche dei blog post tipo il creatore del formatter di Dart anche lui ha fatto un post e mi ha detto no è stata la cosa più difficile da fare ad esempio Prittier ha preso un documento accademico di un ricercatore che ha detto queste sono regole per fare un formatter e praticamente l'ha messo in azione su codice le cose difficili beh innanzitutto il printer il printer è praticamente data una derivata struttura è capire quando una linea di codice deve andare su più righe oppure può rimanere sulla stessa riga e poi c'è il discorso di l'effetto accascata accascata quindi ho un gruppo che ne so di un array questo array deve andare su più linee però poi ci sono anche ogni ogni singolo elemento dell'array che può andare su un'altra riga o può andare su più righe quindi c'è diciamo un discorso di accascata e capire quando un gruppo deve andare su più righe oppure no un'altra sfida è anche quella è stata quella di creare la rappresentazione intermedia il nostro formatatore cosa fa? praticamente prende l'IST e lo trasforma in una rappresentazione intermedia apposta per il formatatore magari poi te la posso mostrare se posso allora abbiamo un un playground ufficiale ci metto un po' a caricarsi ecco qua vabbè comunque sia qui potete vedere come un determinato ST viene rappresentato nella nostra rappresentazione intermedia che non sta funzionando quindi lasciamo stare una cosa che fa anche Prettier è praticamente capire quando trasformare i nodi in una determinata rappresentazione intermedia alcune volte deve essere un gruppo alcune volte deve esserci una soft line o un hard break insomma anche quella è difficile perché quando hai praticamente fatto tutto il formatter devi fixare determinati edge case succede che fixi quello ma poi c'è un effetto cascato sugli altri test e quindi quella è la parte difficile cercare di capire quando fixare un edge case senza rompere tutti gli altri non so come ma non sta funzionando non ho capito il messaggio di Roberto adesso ce lo rispiega e l'altra domanda invece riguarda il team forse anche la tua esperienza direttamente eravate già programmatori Rust o lo siete diventati scrivendo ROM? io non ero un programmatore Rust e l'ho imparato scrivendo ROM quindi l'azienda oddio l'azienda chiamiamolo il team perché eravamo tipo quattro persone all'inizio abbiamo deciso ok spendiamo due tre settimane nell'apprendere Rust quindi io sono andato sul Rust book ho fatto gli esercizi e poi abbiamo iniziato ad hackerare su un repository privato e cosa abbiamo fatto ad esempio abbiamo preso una cosa di ROM classico in TypeScript e abbiamo cercato di trasformare il Rust e vedere come veniva tipo all'inizio quello che ho creato è stato un'app un abominio perché ho cercato praticamente di replicare la stessa dinamicità che hai su TypeScript su JavaScript in Rust quando poi ci sono ritornato dopo qualche mese per iscriverlo ho detto no questa non è una cosa che fai se hai una conoscenza di Rust quindi diciamo ci vuole del tempo però diciamo ne valse la pena e mentre le nuove persone che si sono unite al team loro erano già programmatori di Rust uno dei miei colleghi ad esempio ha proprio background di C++ ha lavorato su augmented reality una cosa del genere quindi diciamo più ferrato sul back-end dei compilatori che più sul front-end cioè il parser è il front-end ad esempio l'intero compilatore è il back-end quindi un altro mio collega che viene da Facebook anche lui lui ha lavorato la maggior parte della sua carriera sul web ma anche lui con noi ha preso Rust andando su internet e hackerando praticamente stessa cosa che ho fatto io prendi una cosa di scicciare in ROM creala e poi alla fine andare anche su Stack Overflow e così del genere per risolvere gli errori ok tra l'altro colgo l'occasione adesso ho capito la battuta di Roberto non è il Rust il playground evidentemente questo è ci sono arrivato un attimo dopo e tra l'altro salutiamo gli amici di Rust Roma di Enrico ciao e un'altra community sul territorio e vabbè qui rinnovano i complimenti domanda no? ce n'avevo io un'ultima proprio da profano del settore la velocità raggiunta ora cercando di fare una cosa molto open non non di prodotto è dovuta a questo cambio di AST CST è dovuta al cambio da un esecutore javascript a uno Rust è dovuta anche al fatto che ci sono meno plugin meno cose caricate magari del compilatore typescript ci sa un mix di queste o diciamo il focus sulla velocità lo sprint più forte cosa lo dà allora sebbene Rust sia un linguaggio di sistema non è esente da problemi di performance perché tu puoi prendere una cosa veloce scriverla male e diventa lenta quindi il linguaggio sì ma c'è anche comunque fare l'algoritmo corretto e le ottimizzazioni del caso tipo recentemente uno dei miei colleghi ha fatto veramente un tweak che ha migliorato le performance del format in una maniera assurda cosa succedeva che quando chiedevamo i diciamo i figli di un determinato nodo l'API che c'era sotto lui cosa faceva praticamente in alcuni casi quando volevamo sapere l'ultimo children ok data una lista vuole prendere l'ultimo nel formatter questo capita perché facciamo le cose dal basso verso l'alto e non viceversa cosa succedeva quando chiedevamo l'ultimo comunque l'API controllava tutti i figli fino all'ultimo ed essendo un albero non è una cosa lineare quindi bisogna comunque fare uno scan di tutto e richiede comunque un sacco di tempo quindi lui ha trovato questa cosa ha cambiato l'algoritmo in una maniera tale da prendere solo le ultime foglie dell'albero e c'è stato un gain di performance incredibile solo cambiando quello quindi ecco non è solo il linguaggio il linguaggio aiuta molto sì perché è un linguaggio di sistema gestione della memoria è non hai bisogno di allocare celle di memoria e quant'altro come si fa in C perché te lo fa Rust però tipo le allocazioni devi sapere quando fai l'allocazione sull'IP o l'allocazione sullo stack perché comunque è tipo sull'IP più ti spendi o sullo stack no c'è anche quello è anche una cosa dello sviluppatore e anche se l'algoritmo ti ringrazio ti chiedo scusa perché nell'elenco delle cose su cui poteva essere più veloce non ho menzionato la competenza di chi l'ha sviluppato dietro e anche l'algoritmo dietro che è tutta intelligenza e giustamente anche quello impatta e non da poco e abbiamo diciamo raggiunto il nostro limite temporale quindi Emanuele ti ringrazio complimenti grazie per essere stati con noi grazie grazie e vi ringrazio per essere stati con noi da casa abbiamo raggiunto i picchi dell'online e ci vediamo il terzo mercoledì del mese quindi sapete già in calendario io no perché ogni volta mi scordo di vederlo prima di salire sul palco però il terzo mercoledì è facile 19 qui a Roma e in Ellabs e online grazie ancora Emanuele grazie a voi ciao alla prossima grazie a tutti